Manca il numero legale, salta il Consiglio Comunale, ora l'amministrazione spazzafumo che entro la fine del mese, entro pochi giorni, deve convocare un altro Consiglio e lo deve portare a casa. Pasqualino Piunti, ex sindaco di San Benedetto, consigliere comunale di Forza Italia, l'opposizione è stata molto critica oggi dopo quello che è accaduto in sala consigliare. Certo, un'ulteriore chicca, questa città che era conosciuta per l'accoglienza alle popolazioni vittime del terremoto, all'iniziativa dei nostri bravissimi pescatori con la pesca di plastica che il Papa ancora oggi nomina e ci esalta, una città che è a bandiera blu, bandiera verde come spiaggia dei bambini e delle famiglie, bandiera azzurra città dello sport e del camminamento, in questi due anni siamo riusciti ad andare nei media nazionali per iniziative discutibili da parte di questa amministrazione o per dichiarazioni al limite del ridicolo da parte di chi ci sta rappresentando. Quindi oggi noi non esultiamo perché è un'ulteriore pagina che fa di San Benedetto una località di poco spessore, diciamo così. Ora ci sono questi 11 giorni per carità ma è il percorso che è troppo frastagliato, accidentato e noi dobbiamo pensare a dare risposte sul turismo, sul commercio, soprattutto sul sociale. In una città che deve stare al passo con i tempi, invece oggi ci ritroviamo ogni volta a fare le polemiche spicciole su situazioni che effettivamente non sono leggibili e che io credo e spero che presto debbano essere ricondotte alla normalità. Come? Lo devono decidere chi oggi decide delle sorti della città. Però non essendoci più una maggioranza, io credo che l'accanimento terapeutico non faccia male agli addetti ai lavori, fa male agli amministrati, alla città. Quindi ognuno si faccia un esame di coscienza e produca una soluzione. Noi oggi l'abbiamo prospettata, non in Consiglio Comunale perché sono loro che devono garantire il numero legale e noi ci siamo astenuti dall'entrare proprio per far capire alla città la realtà delle cose che non è più oggi possibile nascondere.